Tra pochi minuti la sentenza per i 53 attivisti in ottava processo per gli scontri di Chiomonte del giugno del 2011, la procura ha chiesto condanne per tutti. E passiamo ora al maxiprocesso a 53 attivisti in ottava per i disordini e le azioni contro l'apertura del cantiere della TAV del giugno del 2011, la sentenza è attesa per le 14.30. Allora ci colleghiamo subito in diretta con Matteo Spicuglia che si trova davanti al carcere delle Vallette. Buongiorno Matteo. Buongiorno dall'aula bunker delle Vallette. Si dicevi bene, la sentenza sarà tra poco o meno di mezz'ora. È l'ultimo atto di un processo lunghissimo, decine e decine di udienze, un processo durato oltre due anni, i fatti sono quelli legati agli scontri del 27 giugno del 3 luglio del 2011. Sono i giorni in cui furono sgomberate le aree dove oggi sorge il cantiere dell'alta velocità a Chiomonte. 53 notav imputati, i PM hanno chiesto condanne per tutti, in totale 190 anni di carcere, condanne che vanno da sei mesi ai sei anni, quasi tutte oltre i tre anni. Le accuse di violenza aggravata, minacce, lesione pubblico ufficiale e danneggiamento. È stato un processo, come avviene ormai in tutti i processi che riguardano gli attivisti notav, un processo dove si sono confrontate interpretazioni diverse su quei fatti. La difesa ha parlato di militarizzazione della valle, ha portato anche immagini su presunte azioni illegittime delle forze dell'ordine. Insomma, ci sono state interpretazioni veramente contrapposte. Quindi ci sono i fatti e poi ci sono le versioni dell'accusa e della difesa. In un confronto che, dicevo, è stato serrato. Adesso l'ultima parola passa al giudice Quinto Bosio, che appunto tra poco meno di mezz'ora leggerà la sentenza. Prossimi aggiornamenti nelle prossime edizioni. Per il momento qua dall'Aula Bunker delle Vallette è tutto. Vi restituisco la linea. Grazie a Matteo Spicuglia.